Engagement è un dialogo a due tra investitori e aziende su tematiche legate alla strategia aziendale, alla performance operativa, all'ambiente, al trattamento dei lavoratori e alla governance aziendale ed è un modo per gli investitori di monitorare e influenzare la condotta aziendale per creare valore a lungo termine. L'engagement ha tantissimi vantaggi sia dal punto di vista della comunicazione che dell'apprendimento e delle relazioni. Dal punto di vista della comunicazione permette alle aziende di meglio raccontare la loro storia e agli investitori di esprimere le proprie opinioni. Dal punto di vista dell'apprendimento aiuta l'investitore a raccogliere informazioni ma anche buone pratiche ed esempi che possono poi essere trasferiti ad altre aziende e competitori nello stesso settore. L'engagement crea anche possibilità di relazione. All'interno degli investitori le persone che si occupano degli investimenti devono parlare con i responsabili della sostenibilità e degli investimenti responsabili. Allo stesso modo crea relazioni per le aziende perché le persone che si occupano delle relazioni con gli investitori devono parlare con i dipartimenti di sostenibilità e anche con i rappresentanti del Consiglio di amministrazione. Quando gli investitori vogliono parlare di cambiamento climatico con le aziende vogliono capire qual è il ruolo di supervisione e di conoscenza tecnica del Consiglio di amministrazione. Vogliono capire se il cambiamento climatico è parte integrante della strategia aziendale e del controllo dei rischi e se l'azienda sta sviluppando degli obiettivi di breve e di lungo termine per ridurre le emissioni di un'idea carbonica. È anche importante che l'azienda sviluppi dei scenari, degli analisi di scenari e che questi obiettivi di riduzione delle emissioni siano collegati ai pacchetti rimunerativi del management.